Assessore Podestà, una piccola svolta c'è. Tradeco messa in mora dal Comune, il Comune che si fa carico di pagare gli stipendi ai lavoratori da adesso in avanti al posto di Tradeco. Anche se i lavoratori dicono che è ora che Tradeco vada via. Beh, sì, i lavoratori sono esasperati, lo sappiamo. Adesso dire che il Comune immediatamente paga gli stipendi può essere fuorviante. Nel senso che la cosa corretta è che il Comune ha avviato le procedure per attivare l'articolo 5 che aveva già attivato in precedenza per permettere il pagamento dei stipendi. Il che vuol dire che noi intimiamo alla Tradeco di pagare i stipendi e ha 15 giorni di tempo per ottemperare a questa intimazione, dopodiché interviene il Comune e paga gli stipendi. Quindi sono state messi in atto. Paga quei soldi che dovrebbe dare a Tradeco. Naturalmente abbiamo chiesto tutti i dati necessari per compilare le buste e paga. Questa è una condizione necessaria. Sino quando non si riesce a fare stipendi. La situazione attuale è estremamente preoccupante e estremamente spiacevole. Spiacevole perché ne risente la città. La città risente una situazione in cui non ha nessuna responsabilità. In quanto il Comune di Impera paga regolarmente, non solo il Comune di Impera, ma il Comune di Anomarina e altri comuni pagano regolarmente la Tradeco. E questo mese hanno anche pagato di nuovo regolarmente. E la novità sta nel fatto che, mentre prima la Tradeco ritardava i pagamenti, perché per qualche motivo noi, tipo quando il DURC non era regolare, non potevamo pagare regolarmente, noi abbiamo dovuto differire il pagamento attendendo la regolarizzazione del DURC. E la Tradeco quindi ha ritardato a sua volta il pagamento degli operai, non appena ha avuto i soldi a disposizione. A questo punto, a questo mese, la Tradeco ha già i soldi a disposizione e si rifiuta di pagare gli stipendi degli operai. Ecco, ma c'è un discorso, si dice che comunque sia Tradeco sia in difficoltà anche su altre piazze, in altre zone d'Italia, quindi una catena. E poi, voglio dire, in un ultimo discorso, si dice che questo appalto sostanzialmente sia nato male, quindi destinato forse a morire peggio. Per questo tanti dicono, torniamo indietro. Però il problema qual è? Che non è così semplice. Non si può dire a Tradeco, grazie, arrivederci e tanti saluti. Certamente, un apparto è molto complesso. La macchina più è complessa da montare, più è complessa da smontare anche. La cosa si può fare, non è impensabile. L'Atradeco stessa ha manifestato l'intenzione di recedere da questo contratto. Bisogna vedere sotto quali condizioni. Contenziosi, magari. Certo, ci saranno dei contenziosi all'infinito. E noi, in ogni caso, abbiamo ben chiaro che non si può andare avanti in questa maniera. Cioè, è intollerabile per tutti quanti.